Carmine, buongiorno, siamo qui per fare Ulysses View, il giro che l'Associazione Amici della Bice... Vabbè, Bice, Berenice, facciamo un'altra volta. Carmine, buongiorno, allora siamo qui perché vogliamo fare questo Ulysses View, il giro che l'Associazione Amici della Bice mette a disposizione gratuitamente. Vediamo come andrà. Grazie Carmine, cominciamo subito, spiegaci come funzionano queste biciclette. Audi Dudi, ragazzi, qua è proprio il caso di dire Audi Dudi, guardate che panorama non potevamo non fermarci. Come in ogni tour che si rispetti, ci sono anche una serie di assaggini come questo, delle olive di Gaeta, buonissime, un bel vino casareccio di qua. Ragazzi, Audi Dudi! Allora ragazzi, intanto la bici elettrica è una meraviglia e poi io farò una bella donazione a questi ragazzi perché l'Associazione se lo merita, li spende in maniera sostenibile, il giro è bellissimo, quindi mi raccomando, amici della bici, Ulysses View a Gaeta Latina. Grazie a tutti! Grazie a tutti!